Il messaggio di Natale di quest'anno è stato tutto dedicato alla nostra comunità, una comunità che guarda il suo futuro, una comunità che è capace di investire, che non volge lo sguardo rispetto ai problemi che ha, ma cerca di affrontarli e di risolverli. Questo per noi è Parma, Parma e i suoi parmigiani, l'orgoglio che hanno nel guardare la propria città, ma nel volerla vedere sempre crescere. Quest'anno la campagna d'iniziativa di Parma Facciamo Squadra è stata dedicata a fare gli anulini e a venderli per beneficenza. Io penso una bellissima immagine della nostra città, quindi ho partecipato veramente tantissimi parmigiani e tantissimi parmigiani hanno comprato tutto proprio per darlo in solidarietà alle persone che stanno peggio. Io penso che questa sia l'immagine della nostra città, che vede i problemi, cerca di affrontarli, di risolverli, ma con uno sguardo al futuro. Quindi con questo veramente tanti auguri di buon Natale, di felici feste, di buon anno a tutti i parmigiani. Grazie a tutti.